Il paese della mia infanzia è una porta d'ingresso che vi porterà a comprendere il Cile di oggi. Il golpe è stato un terremoto violento che ha cambiato per sempre le nostre vite. Durante tutta la dittatura, la cordigliera è rimasta al suo posto. Credo che la montagna sia un testimone. Se la roccia potesse parlare, oggi avremmo le risposte che ci mancano.